Che cosa sono le cosiddette bioceramiche o i cosiddetti cementi bioceramici che vengono utilizzati appunto nell'ambito diciamo della endodonzia? Sono appunto più conosciuti come cementi bioceramici piuttosto che come bioceramiche e sono appunto dei cementi di recente introduzione nell'ambito dell'endodonzia. Fino a qualche anno fa ovviamente non erano ancora stati introdotti e non erano ancora molto utilizzati. Questi cementi sono presenti ovviamente in commercio sotto vari nomi, sono venduti appunto da diverse ditte di cui ovviamente non farò il nome e la loro caratteristica più importante è che generalmente sono a base del cosiddetto materiale conosciuto come MTA cioè mineral trioxide aggregate. Il vantaggio più importante offerto da questi tipi di cementi è rappresentato fondamentalmente dal fatto che lavorano bene in canali umidi mentre i cementi convenzionali che vengono appunto utilizzati in ambito odontoiatrico necessitano di un'asciugatura del canale maggiore. Infatti bisognerà utilizzare i cosiddetti coni di carta paper points per asciugare comunque in maniera corretta i canali. Quindi sono molto indicati soprattutto per esempio nei bambini in cui molto spesso la diga potrebbe diventare difficoltoso montarla o comunque in condizioni in generale di scarso controllo dell'umidità del campo operatorio. Sono a base di nanoparticelle con delle dimensioni al di sotto di 2 micron e dipende ovviamente dal tipo di cemento bioceramico. Alle volte vengono forniti sotto forma di polvere e liquido, altre volte invece questi cementi sono forniti già premiscelati. Ovviamente quelli premiscelati sono molto più comodi da utilizzare mentre quelli forniti sotto forma di polvere e di liquido è un pochettino più complesso andarli a gestire perché mentre i cementi endodontici convenzionali sono più semplici sotto certi aspetti da andare a miscelare per i bioceramici la loro miscelazione richiede ovviamente una maggiore padronanza e una maggiore conoscenza delle proprietà del materiale in quanto durante la miscelazione tendono subito a indurire a fare presa quindi bisognerà esploitare una miscelazione adeguata e utilizzare le giuste quantità di polvere e di liquido fornite ovviamente dalla casa produttrice e in più è complessa la loro miscelazione in quanto l'impasto ottenuto dalla miscelazione dovrà avere una giusta consistenza non dovrà essere né troppo diciamo duro né troppo fluido ma dovrà avere una consistenza appunto filamentosa per poter agire in maniera corretta le indicazioni all'utilizzo dei cementi bioceramici sono innanzitutto per la chiusura dei canali classicamente attraverso l'utilizzo del cono di gutta perca poi un altro utilizzo rappresentato appunto per la chiusura delle perforazioni oppure per il sigillo degli apici beanti oppure in caso di riassorbimenti radicolari o ancora in caso di chirurgia endodontica ovviamente un altro svantaggio è rappresentato dal fatto che i loro costi rispetto ai cementi convenzionali generalmente sono più elevati però il vantaggio più grande è il fatto che si possono utilizzare in ambienti umidi e inoltre l'altro vantaggio è proprio rappresentato dalle proprietà specifiche dell'MTA delle quali sicuramente vi parlerò in un altro video